Onorevole Barbagallo, tra alleanze, beghe e scontri interni, qual è in questo momento il ruolo del Partito Democratico alla Regione? Ma io mi auguro che il ruolo del Partito Democratico sia di un grande partito riformista che dà un segnale per fare le riforme che non sono state fatte in questi anni e quindi per dare un contributo positivo a questo fine legislatura. Certo, ci sono molte tensioni, si privilegiano l'alleanza anziché i contenuti, ma io mi auguro che questa stagione finisca al più presto. Partito Democratico nel centro-sinistra o Partito Democratico nel terzo polo? Partito Democratico che partendo dal centro-sinistra cerca di allargare la coalizione perché il terzo polo in Sicilia ha molti più consensi rispetto al resto del paese e quindi per vincere c'è bisogno di tutti. Ma per quanto riguarda le ultime vicende che sono accadute alla Regione, secondo lei ha perso quota un po' questa alleanza Partito Democratico-MPA? L'alleanza Partito Democratico-Raffaele Lombardo forse ha perso alleanza. Io spero che ci sia un terzo polo che continua a dialogare anche con noi. E il futuro della Regione in questo momento, potendo giudicarlo adesso, qual è secondo lei? Non c'è una grande prospettiva, si parla di elezioni anticipate. Io penserei piuttosto a realizzare qualcosa di importante per i cittadini e non a ragionare sulle convenienze di questo o di quel partito. Secondo lei, parlando di elezioni anticipate, se si dovesse votare in ottobre, così come ha anticipato Lombardo, sarebbe anche un danno per la collettività? Io penso di sì, intanto non si realizza quella riforma che ho proposto io della riduzione dei deputati che mi sembra estremamente significativa. Dopodiché votare 3-4 mesi prima perché si ci arriva sfilacciati senza politica non serve, tanto vale aspettare di concludere la legislatura che finisce nella primavera prossima e approvare qualcosa di serio.